Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, oggi e domani ultimi due giorni del piano mobilità per le festività natalizie, previste più corse sulle metro A e C e su 17 linee di bus dirette verso il centro e le zone commerciali. Attive le linee gratuite Fri 1, Fri 2 e Cento e ZTL di Urne di Centro e Tridente in funzione dalle 6.30 alle 20. Le altre notizie da lunedì, nuova fase dei lavori di rinnovo dei binari per il tram 8. Per 5 settimane il cantiere sarà attivo all'altezza di Ponte Garibaldi e l'8 viaggerà su bus. Lavori anche sui binari del 3 nella zona del Parco del Celio. La linea 3 continua a viaggiare con tramo tra Valle Giulia e Porta Maggiore e su bus tra Porta Maggiore e Stazione Trastevere.